E poi parliamo di teatro e lo facciamo con lo spettacolo di un grandissimo amico e collega Saverio Marconi che dal 21 febbraio sarà in scena al teatro Cometa di Roma con il suo spettacolo di prosa variazioni enigmatica mi raccomando non mancate Ciao Saverio, davanti io Grazie Saverio Marconi